bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono in radio della registra cancelletto 1 farò la recensione di un film del 1997 forza d'urto 2 un ex poliziotto riceve la chiamata di un vecchio collega che gli richiede di prendere parte ad una missione dell'fbi sotto copertura la coppia deve fermare una banda di trafficanti di droga e scoprire quali siano gli agenti corrotti associati al gruppo criminale le cose si complicano quando nel mezzo delle indagini vengono allo scoperto alcune informazioni particolarmente importanti il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione della sceneggiatura e di generazione la durata è 1 alle 33 minuti il regista è philippe mora la regia è buona bravo regista l'attore è brian bosworth bravo attore nel film anche joe terry prion james dara tomanovic alan scarfe gui torri michael clark duncan ron glass victoria maone alkes shaklin trevor est john kirk bailey melanie paul andrew rosey brown nicholas r olison derli kate roach danny windas maggie hagan win irwin fabian carrillo dominic mora li vodal aubry beavers saluto anna guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto quando diciamo tommo 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 Grazie.